Capitolo 29 Vacillo sul precipizio del Monte Branch Esiste qualcosa di più terrificante di un branch? È un abominio tra i pasti, un ibrido alla Frankenstein di cibi che non vanno d'accordo. Evoca incubi fatti di gruppi di soft jazz, bambini in abiti da cerimonia dal prurito assicurato, signore con strani cappelli, macchie di rossetto sui bicchieri di champagne e l'odore di croque monsieur. Scusatemi, ma io non mangio un cibo con un nome così. Anche la parola branch mi fa capponare la pelle. È un termine quanto mai inelegante per indicare qualcosa che dovrebbe essere elegante. È come dire mettiamoci tutti in tiro e andiamo a una maratona nel fango. Insomma, perché? Ora però avevo scoperto una cosa addirittura più terribile di un branch mortale. Un branch tra gli dèi. Di lunedì mattina per giunta. È all'ora di colazione. Ma è ovvio che loro dovevano trasformarlo per forza in branch. E poi? Zeus aveva invitato sua madre? Non avevo mai conosciuto Rea, la regina dei titani, e non ero ansioso di scoprire quello che gli dèi le servivano come pasto speciale del mattino. Probabilmente semidio in camicia su pane tostato con un cocktail mimosa alle lacrime di semidio. Sollevai il calice di Ganimede. Non possiamo spedirlo con l'Hermes Express, vero? Annabeth corrugò alla fronte. Persi... Non hanno la consegna entro un'ora a Manhattan. Ganimede ne ha bisogno adesso e tu devi portarglielo. È compito mio, sospirai. Conoscevo bene le regole per portare a termine un'impresa, consegna in guanti bianchi da parte del semidio incaricato inclusa. Sembrava sempre più improbabile che riuscissi ad arrivare a scuola in tempo per il compito della prima ora. D'accordo, qualche suggerimento su come posso sgattaiolare nell'Olimpo e infiltrarmi in un brancio di vino? Domandai. In realtà... Grover sbatté le palpebre come se stesse per dire una cosa che avrei trovato penosa. Un'idea potrei avercela. La parte semplice fu trovare un taxi per andare in centro. Di norma non avrei speso soldi per un taxi, ma dopo che io e Grover avevamo salutato Annabeth, sembrò il modo più veloce per arrivare all'Empire State Building, e anche il modo più veloce per sfuggire all'ira della mia ragazza. Con estrema riluttanza mi aveva prestato il suo cappellino dei New York Yankees. Non lo fa mai. Il berretto dell'invisibilità è un regalo di sua madre, quindi non si può certo dare in prestito senza un ottimo motivo. Sarebbe come se io lasciassi usare vortice da un altro semideo in battaglia. Anche no. Ma quando Grover aveva detto in tono supplicante che era l'unico modo, Annabeth me lo aveva ceduto. Mi aveva guardato torvo e aveva detto, me lo riporterai. Buona fortuna non morire. Dopodiché era corsa via per andare a lezione, dato che il campus si trovava ad appena un paio di isolati di distanza. Nel taxi, mentre mi spiegava il resto del piano, Grover tamburellava nervosamente gli zoccoli sul tappetino della macchina. Non mi preoccupava troppo che l'autista aurigliasse perché, beh, eravamo a New York. Un piano per fare irruzione sul Monte Olimpo non era la cosa più folle che un tassista potesse ascoltare in una giornata qualunque. E poi Grover aveva insistito che ci portassimo dietro Lula Hop e io avevo un calice gigantesco in grembo, quindi eravamo già narratori inaffidabili. Una ninfa delle nuvole, dissi, solo per assicurarmi di aver capito bene. Esatto. Il satiro lanciò un'occhiata alle nostre spalle, anche se, per quanto ne sapevo, nessuno ci stava seguendo. È la stessa ninfa che ti ha dato le informazioni su Washington Square Park? Domandai. No, no, ma le ninfe delle nuvole, cavolo, sono come le segretarie di una scuola, conoscono tutto e tutti. Questa, Naomi, da qualche mese esce con Marone. Lavora nelle cucine del palazzo di Zeus. Se ce la fai a raggiungere l'entrata laterale dovrebbe riuscire a farti sgattaiolare dentro. Rabbrividì. Marone faceva parte insieme a Grover del consiglio dei satiri anziani. Era piuttosto simpatico come uomo capra, ma solo poco al di sotto di Gary nello spettro dei vecchi strambi. L'idea che avesse un profilo dating su satir flirt era una cosa a cui non volevo pensare. Arrotolai il cappellino di Annabeth fra le mani. Non penso che il berretto dell'invisibilità ingannerà gli dèi, giusto? È poco probabile, confermò Grover. Il cappellino serve per ingannare gli spiriti o le divinità minori in cui potresti imbatterti. Fintanto che non agiti le braccia o non gli urli in faccia, per loro dovresti essere invisibile. Ma per gli dèi dell'Olimpo ti servirebbe l'elmo dell'oscurità di Ade. Al massimo il berretto di Annabeth può farti sembrare, come dire, insignificante, ok? Perfetto, bofonchiai. Non sapevo perché Grover avesse tante informazioni sul cappellino di Annabeth. Visto, però, che mi stava dando cattive notizie, immaginai che dovesse essere sulla pista giusta. Quindi vado all'ingresso laterale delle cucine del palazzo il più in fretta possibile. Fai la bussatina speciale. Tattararatta tattà, canticchiai. Perché non la userebbe mai nessuno? Non appena Naomi apre la porta, dille che ti manda Grover e che hai bisogno del suo aiuto. Ok. Perché mi tremavano le mani? Ah, giusto. Avevo appena finito di combattere un incontro di wrestling con la vecchiaia. Ero sfinito. Senza contare che stavo per imbucarmi a un banchetto nel palazzo dell'Olimpo, dove diverse divinità maggiori erano membri fondatori del club Noi Odiamo Percy Jackson. Poi devo solo capire come portare la coppa a Ganimede. Esatto. Ci fermammo davanti all'Empire State Building. Wow, che seccatura tanta velocità. Guardando l'ingresso di marmonero che avevo varcato già troppe volte, all'improvviso mi venne in mente un altro problema. E il tizio di guardia al banco della reception? Chiesi. Non mi farà salire sull'Olimpo senza annunciarmi. Il berretto degli Yankees funziona con lui? Sicuramente no, rispose Grover. Ti servirà un diversivo, e quello sono io. Pagò il tassista e uscì dalla macchina reggendo Lula Hop. Scesi in fretta dietro di lui con il calice in mano. Non appena io comincio a fare la mia cosa, tu raggiungi alla chetichella gli ascensori e vai al seicentesimo piano, disse. Andiamo. Non sapevo quale fosse la cosa di Grover, ma eravamo amici da abbastanza tempo da immaginare che lo avrei capito al momento giusto. Lui poteva essere un fantastico elemento di distrazione quando voleva, e io ero un esperto nel farmi distrarre. Mi misi il berretto di Annabeth. Perfino dopo averlo regolato alla larghezza massima non mi calzava bene, ma sembrava che facesse comunque il suo lavoro. Abbassando lo sguardo sul mio corpo, vidi una vaga sagoma fumosa dove di solito c'era Percy Jackson. All'improvviso ebbi la sensazione di avere delle termiti che mi brulicavano su tutta la pelle. Annabeth non mi aveva mai detto che il cappellino provocava gravi attacchi di prurito. Non c'era da meravigliarsi che lo usasse solo quando non poteva evitarlo. Tipico di Atena, fare ondono magico con tanto di disincentivo incorporato. All'interno dell'edificio l'atrio era pressoché deserto. Da quando, qualche anno prima, avevano spostato le code di turisti all'entrata sulla 34esima strada, l'ingresso sulla quinta Avenue era molto più tranquillo. In quel momento era troppo presto perché ci fossero molte persone in giro. Davanti alle porte c'erano le solite guardie e qualche impiegato che si dirigeva con passo incerto verso gli ascensori. Nessun altro. Le pareti di marmo scuro intendevano forse dare un'impressione di maestosità e imponenza, ma mi ricordavano sempre troppo il Monte Otri, il quartier generale dei titani. Tutta quella lugubre pietra mi opprimeva il petto come un abbraccio di gheri. Mi domandai se gli dèi dell'Olimpo avessero progettato l'atrio di proposito in quel modo. Così, quando arrivavi al magico seicentesimo piano e uscivi tra le nuvole, saresti rimasto abbagliato dalle torri e dai templi scintillanti dell'Olimpo. Sembrava nello stile di Zeus. Visto come siamo più belli, siamo per forza i buoni. A destra del banco della reception principale, la guardia con cui avevo già avuto a che fare in passato, se ne stava rilassata a leggere un libro, come al solito. Sembrava che non cambiasse mai d'aspetto e leggeva sempre romanzi lunghissimi. Per me, quelli erano due indizi che avrebbe potuto essere non umano. Il cordoncino del badge ciondolava dal bracciolo della sua poltrona. Sapevo per esperienza che avrei avuto bisogno di quel badge per accedere allo speciale divino ascensore, ma anche se ero invisibile e anche se Grover avesse procurato un diversivo, non capivo come avrei potuto prenderlo senza che la guardia se ne accorgesse. Poi, Grover si presentò al centro dell'atrio e fece la sua cosa. Tirò fuori il flauto, gridò, e cominciò a fare l'ula hop. Sapevo che i satiri potevano arrampicarsi e saltellare allegramente, non sapevo però che erano dei maghi assoluti dell'ula hop. Grover scosse le chiappe lanute. Il sacro cerchio di Ganymede si accese e cominciò a lampeggiare e scintillare, mentre il satiro lo muoveva su e giù lungo il corpo, facendolo girare prima intorno a una gamba, poi all'altra. Grover portò il flauto alle labbra e suonò a tutto volume il ritornello di Get Lucky. Le guardie giurate mortali rimasero a bocca aperta. Un pendolare lasciò cadere a terra una tazza piena di caffè. La guardia alla reception mise giù il libro e si alzò dalla poltrona. A quel punto mi ricordai che dovevo sfruttare quel momento per fare qualcos'altro al di là di fissare Grover a occhi sgranati. Mentre la guardia usciva da dietro il banco della reception dicendo a Grover «Signore, non puoi esibirsi qui!». Costeggiai il perimetro dell'atrio, stringendo con delicatezza il calice sotto un braccio come se fosse un pallone. Afferrai il badge e feci una volata verso gli ascensori. Schiacciai il pulsante per salire. Rimasi ad aspettare per quella che mi parve un'eternità, sicuro che la guardia mi avrebbe rincorso o che gli allarmi sarebbero partiti e delle feroci arpie sarebbero apparse per trascinarmi in una prigione sotterranea. C'è una prigione sotterranea nell'Empire State Building? È probabile, no? Alla fine le porte nere e argento si aprirono. Scivolai dentro, inserii il badge che avevo sottratto e premetti il pulsante per il seicentesimo piano. E così salii su, al ritmo presumibilmente rilassante di I Got You Baby. Sperai che Grover se la sarebbe cavata. Non sapevo quale fosse la multa per aver suonato Get Lucky facendo al contempo Lula Hop nell'atrio dell'Empire State Building, ma probabilmente era salata. Grover e Annabeth avevano fatto del loro meglio per aiutarmi. Adesso toccava a me. Non potevo fallire dopo tutto quello che avevamo passato. O forse sì? Le porte si aprirono con un allegro ting che sembrava dicesse, beh certo che puoi fallire nel modo più assoluto. Buona giornata! Uscì e mi ritrovai sul ponte di pietra sospeso in aria che collegava l'ascensore alla città dell'Olimpo. Eccolo là, proprio come me lo ricordavo. Il picco decapitato di una montagna circondata da nuvole, palazzi a cupola e giardini terrazzati scavati nei fianchi scoscesi. Un'intera città soprannaturale che fluttuava sopra Manhattan, della serie Non c'è niente da vedere qui circolare. Il calice diventò più pesante fra le mie braccia. Sembrava che mi trascinasse in avanti, come se percepisse la presenza di divinità assetate che avevano bisogno di un bis. Sperai di non avere un momento alla frodo, in cui arrivavo sulla soglia del Monte Branch con il mio oggetto magico e poi, invece di consegnarlo, diventavo invisibile. Gridavo, aha, la coppa è mia! E bevevo una bevanda in polvere al gusto di immortalità. Zeus mi avrebbe probabilmente trasformato nel dio minore delle tartine. Annabeth si sarebbe infuriata. Mi scrollai di dosso quel pensiero. Da qualche parte nel mondo mortale le campane di una chiesa stavano suonando le otto. Era un'ora assurda per un branch, perciò immaginai che fosse il momento esatto in cui gli dèi lo avrebbero tenuto. Dovevo sbrigarmi. Scesi rapidamente lungo il sentiero, saltando gli spazi vuoti nel ponte di pietra e pregando di riuscire a portare il calice a Ganimede prima che Zeus ordinasse un giro di mimosa alle lacrime di Semidio. Capitolo 30 Mi intrufolo nella tana del dio del fulmine tremila. Fare uno sprint verso il Monte Olimpo mi sembrò figo ed eroico finché non arrivai a metà strada e mi resi conto che dovevo correre ancora per 400 metri, reggendo un calice pesante come una palla da bowling. Quando raggiunsi l'altra estremità del posto,